Ciao, mi chiamo Edoardo. Io sono Giuseppe. Io sono Giulio. Io sono Ciro. Il progetto Mind the Gap è stato molto bello e divertente e ci aiuta a capire i problemi dell'agenda 2030 e come risolverli. Ogni gruppo ha scelto un progetto che è stato anche un'occasione per stare insieme. A me è piaciuto molto questo progetto soprattutto perché abbiamo lavorato insieme. È stato molto divertente, siamo andati nelle aule informatiche, abbiamo usato i computer per creare un video con cui spiegare i nostri progetti.